Ma perché, vedi, si dividono in due categorie, gli attori scopanti e gli attori non scopanti. La maggior parte dei comici non sono scopanti. Benigni, Verdone, ma che c'è che dico? Poi ci sono quelli scopanti. Troisi era un attore comico scopante, nuti. Ma di solito l'attore comico è ermafrodita, non c'ha sesso e non deve averlo perché farebbe paura. Ad esempio, Claudia Mendola è difficile che faccia ridere. Perché? Perché non è un attore. Perché è proprio che scopa. Quindi hai paura che si scopi tua moglie. Perché ha l'occhio da Filippo Stine.